Musica I Marò restano in carcere, il Tribunale indiano ha deciso tre mesi di custodia preventiva per Salvatore Girone e Massimiliano Latorre. Proseguono le analisi balistiche. Corone al palco della Pausini, un morto più feriti, la vittima, un romano, aveva 32 anni. Mercati esteri per le imprese, l'indagine è presentata dall'Asso Lombarda Milano, presente anche Renato Schifani. Pluriumicidio nel Bresciano, l'omicidio agito con lucida follia, positivo al narcotest, ascolteremo una telefonata agghiacciante. Pedaggio free law in Lombardia, un servizio da attivare, sarebbe il passaggio senza barriere e caselli, si paga dopo. Buonasera gentili telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con il nostro notiziero che apriamo con la notizia dei due Marò italiani in India, per loro custodia cautelare di tre mesi disposta dall'autorità indiana, ovvero Massimiliano Latorre e Salvatore Girone dovranno stare in carcere. Si stanno però muovendo le nostre autorità competenti per aiutare i due Marò. Vediamo. Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, i Marò italiani verranno tradotti in un carcere indiano. Non migliora di certo la loro posizione. Il giudice del Tribunale di Collama ha stabilito tre mesi di arresti preventivi per i due fucilieri del San Marco, accusati di aver ucciso due pescatori indiani in uno scontro a fuoco in acque internazionali. Il Tribunale indiano ha concesso comunque condizioni di miglior favore, dato che potranno ricevere le visite del console italiano senza limitazione alcuna. Intanto le perizie balistiche sulle armi sequestrate a bordo della petroliera Enrica Lexi continuano a detta di fonti accreditate dalla Farnesina. Con trasparenza il segretario agli esteri Staffan de Mistura è a New Delhi dove ha in programma incontri col governo indiano. Lo scopo è di seguire passo dopo passo il caso politico e giudiziario dei Marò. Nel frattempo cresce negativamente la campagna anti-italiana guidata da quotidiani influenti come il Times of India. Assai pesante anche la concomitanza delle elezioni politiche con Sonia Gandhi costretta a mostrare il pugno duro per non perdere voti. Una notizia ora da Bergamo, raffiche di multe selvaggi nel dintore della fiera di Bergamo, dove da venerdì è svolgimento la ventisesima edizione della fiera dell'edilizia, una delle più importanti a livello nazionale. L'afflusso infatti ha avuto però un lato negativo, ben presto il parcheggio della fiera ha esaurito i suoi posti a disposizione e quindi i visitatori sono stati costretti a lasciare le auto in sosta e vietata, provocando anche disagi per la circolazione. Verso mezzogiorno sono spuntati anche i vigili con blocchetto e penna e sono fioccate le multe. Tra la mattina e il tardo pomeriggio ne sono state comminate ben 69. Tragedia al palazzetto dello sport di Reggio Calabria, un operario ha perso la vita per il crollo del palco del concerto di Laura Pausini. Morto questa notte un operaio trentenne è rimasto schiacciato dal crollo del palco allestito per un concerto di Laura Pausini, in programma questa sera a Reggio Calabria. La vittima è un giovane romano, Matteo Armellini, 32 anni, che lavorava per una delle società di supporto tecnico agli spettacoli di diversi artisti in giro per l'Italia. L'episodio si è verificato intorno alle 2 di questa notte al Cala Palafiore, il palazzetto dello sport spesso utilizzato per i grandi concerti e i tour nella città calabrese. Al momento del crollo della struttura, Armellini è stato travolto da una colonna ed è morto sul colpo. Altri due tecnici sono rimasti feriti, uno dei quali è ora ricoverato in gravi condizioni. Non è ancora chiaro se l'incidente sia stato causato da un errore umano nella fase di montaggio o invece se sia dovuto a errori di progettazione o a un cedimento di materiali. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e i magistrati hanno nominato un perito tecnico. La tragedia arriva pochi mesi dopo un incidente analogo avvenuto in occasione di un concerto di Giovanotti a Trieste che aveva causato la morte del giovane Francesco Pinna. La cantante Laura Pausini ha reagito con un ricordo della vittima sul proprio sito. Una pagina bianca su cui campeggiava la scritta Ciao Matteo è stata seguita in alcune parole al ricordo del giovane. Anche Giovanotti ha voluto commentare la vicenda con un post su Twitter in cui chiede di aprire un dibattito sulla questione della sicurezza. Le imprese italiane sono alla verifica con quelli che riguardano i mercati esteri. Un'indagine presentata da Asso Lombarda. Facciamo appunto la situazione nel prossimo servizio. Il 60% delle imprese milanesi è attiva sui mercati esteri. L'economia italiana però rimane quella meno cresciuta in Europa. È quello che emerge da un'indagine sui processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Asso Lombarda dove emergono però dati positivi. Credo che il coordinamento nazionale previsto dalla nuova normativa possa essere una risposta agli annosi problemi che in particolare riguardano le piccolissime imprese. L'internazionalizzazione è difficile, costosa, richiede risorse umane importanti ma richiede anche obiettivi definiti. Allora io credo che sia arrivato il momento di evitare ridondanze su iniziative che io definisco a basso valore aggiunto e sia necessario iniziare a progettare interventi di carattere strategico legati a specifici mercati e a specifici settori. Indagini approfondite, valutazione di opportunità, creazione di reti di impresa e affiancamento reale delle piccole imprese nel business. Non più soltanto con operazioni di staff a supporto di partecipazioni a mostre, fiere o semplicemente nell'interlocuzione con le realtà locali ma veri e propri progetti industriali di penetrazione di mercati. Sburocratizzare le imprese è la soluzione per il Presidente del Senato, Renato Schifani. Sburocratizzando, semplificando, facendo in modo che persista in maniera convinta la tutela della legalità si investe soltanto se vi è certezza del diritto, quindi occorre realizzare un'azione strategica per dare sicurezza alle nostre imprese in tutti i sensi. Passiamo al prossimo servizio. La tragedia di sabato notte nel quartiere di Brescia dove sono state uccise quattro persone. Sui fatti ci sono altri elementi utili all'indagine delle forze dell'Ode, tra cui una ghiacciante telefonata tra l'omicida e la carabiniere che l'ha fermato. Emergono tristi particolari sulla vita di Mario Albanese, l'autore della strage di San Paolo a Brescia. La scia di sangue è cominciata in piena notte. Ha affrontato in strada la donna con la quale era in rotta da due anni e un amico, forse l'attuale compagno, gli ha affreddati entrambi. Poi è andato in casa di lei e ha ucciso la figlia ventenne avuta da una precedente relazione ed il suo fidanzato. In casa c'erano anche gli altri due figli avuti dall'ex moglie. I due fidanzatini, Chiara Matalone e Domenico Tortorici, si trovavano in casa per una visita dato che risiedono a Reggio Calabria. L'uomo è stato disarmato da un carabiniere vicino di casa. Ivano Gatti è il nome del militare appartenente al nucleo radiomobile di Brescia. Il carabiniere è entrato in azione da solo, attirato dalla sparatoria. È intervenuto bloccando l'omicida aiutato poi da una pattuglia della polizia, mentre l'uomo aveva ancora la pistola in mano in via Raffaello intorno alle 4 del mattino. Il pluriomicida è stato trovato positivo al narcotest. Nel corso dell'azione tra Ivano Gatti e Mario Albanese c'è stata una telefonata la cui drammaticità si può cogliere ascoltando nella registrazione. Vieni di Brescia? Sono gatti, guarda che hanno sparato a due qua in via Raffaello 55. Via Raffaello 55? 55, sì. Aspetti un attimo, è via Raffaello. Di strada, adesso sto uscendo io. Via Raffaello 55? Raffaello 55, sì. A Brescia chiaramente. Sì, sì, sono gatti, sono gatti. Gatti Ivano, ciao. Sì, sono mei, vieni in via Raffaello 55. Sì, abbiamo già passato anche alla questura una segnalazione. Sì, hanno sparato qua a due. Sono per terra? Sì, vieni fuori, vieni, manda qua qualcuno. Ciao Mario, c'è successo? No, Mario, sta fermo. Sta fermo. Mario, ma stai qua, stai qua. Mario, aspetta, vieni qua, Mario. Mario. Il cordoglio per il plurio omicidio del San Paolo si è diffuso in città e tutta Brescia piange le vittime di questa lucida follia. Servizio interessante perché parla di pedaggi, si passa e si paga dopo. Anche in Lombardia saranno installati i pedaggi free, low con caselli senza barriere. Scopriamone di più nel prossimo servizio. Le autostrade lombarde pronte a cambiare, anche nei sistemi di pedaggio. La regione Lombardia infatti adotterà nuovi sistemi innovativi, peraltro già adottati all'estero con successo, sul pedaggio free flow. Noi vogliamo in Lombardia le autostrade di domani, non quelle di ieri e come dimostrano le esperienze internazionali che sono state illustrate oggi, in molti paesi del mondo il sistema free flow, ovvero senza caselli, senza barriere, ma con sistemi telematici di rilevazione del pedaggio, più avanzati del telepass a cui siamo abituati noi, funzionano, non creano problemi di riscossione perché abbiamo visto che il 99,8% dei pedaggi viene pagato o immediatamente o recuperato successivamente e quindi io credo che per risparmiare territorio, per garantire un'efficienza migliore al sistema evitando le code che ancora oggi sperimentiamo troppe volte alle barriere e ai caselli e soprattutto per una ragione di equità, perché è giusto che ognuno paghi solo e per il tratto esatto l'autostrada che utilizza, questo sistema vada introdotto al più presto sulle nuove autostrade e anche su quelle esistenti. Possiamo dare una tempistica? Per le nuove autostrade la tempistica è quella dell'avvio in esercizio, quindi per Pedemontana, per l'Altre Agenziale Est-Esterna, io mi auguro anche per Brebemi che stiamo forzando a introdurre per prima questo sistema, entro il 2015 questa tecnologia sarà già attiva, per le altre mi auguro che i concessari si rendano conto una volta avviato un pezzo del sistema con questa modalità che bisogna procedere in questa direzione, si adeguino anche loro in tempi molto rapide. La FIOM ha scelto Milano per preparare la giornata di sciopero indetta per venerdì 9 marzo. Il servizio. Mi aspetto fabbriche vuote e piazza San Giovanni a Roma piena. A dirlo è il segretario generale della FIOM CGL Maurizio Landini, oggi a Milano per un attivo dei delegati sindacali in vista della manifestazione nazionale del prossimo 9 marzo. Credo che il governo dovrebbe immediatamente aprire un tavolo anche sulla politica industriale, non solo sul mercato del lavoro. La FIAT annuncia che vuole chiudere altri stabilimenti, fin meccanica non si capisce quali sale sta facendo e anche fin cantieri ha bisogno di un piano di intervento straordinario, quindi il problema oggi è creare nuovi posti di lavoro e su questo c'è un vuoto, un'assenza anche delle politiche del governo. Sulla tavola di trattativa per il mercato del lavoro servono risorse, estendere gli ammortizzatori sociali a tutti non può essere fatto se non mettendo anche nuove risorse sul tavolo e questo è un punto di discussione che va affrontato. E ribadisco non si può modificare l'articolo 18, il problema non è rendere più facili i licenziamenti, il problema all'opposto è creare lavoro e ridurre la precarietà. La manifestazione sarà aperta, parleranno rappresentanti degli studenti, personalità dello spettacolo e della società civile. Noi abbiamo lo siopero e dei metallmeccanici, ma noi abbiamo scritto a tutte le forze politiche, alle forze sociali, al mondo della cultura, agli intellettuali, perché noi consideriamo che la democrazia ed il lavoro sono oggi punti centrali. La democrazia è a rischio e il lavoro manca quando c'è precario e soprattutto c'è un attacco alla costituzione del nostro paese che ciò che sta facendo la Fiat lo dimostra, quello non può diventare il modello e quindi noi pensiamo che in questa fase difendere la libertà di chi lavora e difendere la libertà di tutti e superare la precarietà e dare sicurezza a questo paese. Studenti in visita a Palazzo Lombardia, un servizio che possa avvicinare i giovani alle istituzioni lombarde. Palazzo Lombardia apre le sue porte agli studenti, una visita guidata di oltre un'ora e mezza. Si comincia con il video che mostra in un filmato tridimensionale la nuova sede della Giunta nel quartiere totalmente riqualificato di Porta Nuova. Questa visita consiste nel presentare Regione Lombardia alle classi e gli studenti. È un'iniziativa che permette di avvicinare la funzione di Regione Lombardia alle classi perché si sanno e si vedono da fuori quelli che sono gli edifici ma non si conoscono al loro interno. Vediamo due gioielli dell'architettura milanesi, Palazzo Pirelli, chiamato il Pirellone a tutti milanesi, e Palazzo Lombardia, conoscendone la loro architettura e conoscendo anche le ultime avanguardie della costruzione che sono state utilizzate. Il percorso scelto dalla classe quest'oggi permette anche di scoprire qual è il lavoro di Regione Lombardia, ossia avvicinare la presenza e la conoscenza di consiglio, di giunta, parole che a volte gli studenti vedendo nelle diverse guide a volte non sono conosciuti e non si capisce esattamente che cosa si faccia qui dentro. Gli studenti nella loro visita sono andati alla scoperta del Museo Verticale, ovvero delle opere donate dagli artisti, esposte negli svariati ingressi di Palazzo Lombardia. La tappa più attesa è il bel vedere al 39esimo piano, con la vista mozzafiato sulla città, vista che ha lasciato tutti gli studenti letteralmente a bocca aperta. Il panorama dall'alto che uno può vedere tutta Milano. È interessante vedere anche l'architettura di questo posto e io sinceramente non ci sono mai stata, dunque è piuttosto interessante. È molto impegnativo costruire un palazzo del genere. Sicuramente l'architettura è uno spazio molto moderno, anche il fatto che sfrutta le energie rinnovabili con i pannelli solari è sicuramente molto interessante. Poi noi studiando architettura siamo affascinati da queste cose, perlomeno penso dovremmo esserlo. Quindi comunque è uno spazio anche molto bello. La visita è proseguita nell'altro palazzo regionale, il Pirelli, sede del Consiglio. Qui gli studenti, sempre accompagnati dai loro insegnanti e da un'operatrice didattica, hanno scelto di fare un approfondimento all'insegna dell'educazione civica per saperne di più riguardo al funzionamento della macchina regionale. È tutto per questa edizione del nostro notiziario, grazie per averci seguito, arrivederci.